Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi è dedicata alla letta, la scritta dalle mogli e dalle madri degli operai dell'indotto della raffineria Eni di Gela. Si rivolgono direttamente al primo cittadino, purtroppo, sottolineano, sarà un altro Natale amaro. Sentiamo. Non vogliono abbandonare la propria città, non vogliono andare via da Gela così come hanno fatto in tanti negli ultimi tempi a seguito della chiusura dello stabilimento. Loro vogliono rimanere nel luogo in cui hanno vissuto e vivono. Sono le mogli i figli degli operai dell'indotto della raffineria, anzi per essere chiari, degli ex operai di un indotto che non esiste più. Hanno scritto una lettera aperta al sindaco Domenico Messinese, nessun attacco ma solo un'immediata presa di coscienza di quello che sta accadendo. Ormai il Natale è alle porte e per noi sarà un Natale amaro, duro, difficile a causa della situazione che stiamo vivendo, senza lavoro, senza futuro, scrivono. E non siamo soli, sono coinvolte in tale tragedia anche altre famiglie gelesi, altri settori purtroppo. Non è facile per nessuno vivere questo dramma. Rivolgendosi al primo cittadino chiedono di mettersi una mano sul cuore e di leggere ciò che c'è nel nostro cuore. Il cuore degli onesti cittadini gelesi, le persone che non fanno notizia, che differenziano i rifiuti correttamente, quelli che pagano le tasse, quelli che amano la propria città, quelli che guai a sentir parlare male di Gela, quelli che hanno perso o stanno perdendo i propri cari a causa del cancro e come se non bastasse hanno perso il lavoro. Chi ci riderà la nostra dignità? Cosa metteremo in tavola questo Natale? Da mogli, da compagne, non è facile stare accanto a delle persone che non hanno il lavoro, disperate, che hanno poca fiducia nella politica, nelle istituzioni che vivono in primis questo dramma. È un'esperienza bruttissima, un trauma psicologico ed economico che impatta sulla vita di coppia e familiare. Essere di sostegno al marito e ai figli non è per niente facile in un contesto del genere. I problemi che ruotano attorno a questa realtà sono complessi e complicati da spiegare. Ad oggi non esiste nulla di concreto, di risolutivo per gli opera dell'indotto e della nostra città, mentre di concreto esiste il disagio, la sofferenza, le difficoltà economiche, mutui da pagare, bollette, figli da crescere, da mandare a scuola con dignità e bisogna pur mangiare. Noi non siamo invisibili, non vogliamo rinunciare allo splendore delle nostre spiagge, si legge ancora nella lettera, e al clima stupendo che tutti ci invidiano. Non vogliamo sussistenza, vogliamo ciò che ci spetta, il lavoro per tutti. Il lavoro per chi ha sempre lavorato a Gela ed adesso è costretto ad andare a lavorare e a vivere lontano dalle proprie famiglie e a ritenersi fortunato quando lo trova. Ma veramente dobbiamo lasciarci morire così? Veramente non c'è nulla da fare? Non vogliamo lasciare questa città, è nostra. Sindaco, le auguriamo di passare uno splendido Natale, ma chiediamo che pari dignità sia conferita al nostro Natale. Non è un panettone e uno spumante che fanno la festa, ma la gioia di stare uniti, vicini, accanto ai propri cari. Lei è il primo cittadino, non le sembra, chiudono, che questa città sia stata calpestata a sofficienza? E proprio il sindaco di Gela, in merito alla lettera a lui indirizzata, oggi ha risposto alle donne. Vediamo. Care concittadine, a voi che siete il migliore esempio di coraggio e di forza. Il vostro dramma non è un disagio isolato e circoscritto. Ciò che stanno attraversando le famiglie dei lavoratori dell'indotto ha ripercussioni sull'intera economia cittadina e anche sullo spirito di questo Natale in ognuno di noi. Ma sarebbe un errore pensare che l'attenzione che vi stiamo rivolgendo è solo una circostanza limitata a queste festività. Le ricorrenze di questo periodo acquiscono i dolori di una popolazione in cui si specchia la storia della nostra città negli ultimi 50 anni. Una storia con un epilogo indegno per un popolo che ha pagato con il sacrificio e la vita. Se non fosse per la forza e il coraggio che trasmettete nella mia azione amministrativa. Fermarsi alle carci le ferite non darebbe giustizia alla nostra identità. Sin dal mio insediamento sono stato al vostro fianco, ho ascoltato le vostre storie, ho preteso spiegazioni in tutti i confronti con i nostri governanti. Un percorso in salita che giorno dopo giorno ci allontana sempre più dal baratro in cui eravamo finiti. Ma ho soprattutto condotto una battaglia che solo una persona libera dai fili dei partiti può permettersi. Anche a rischio della propria persona. Ho portato la questione oltre i confini territoriali perché Gera rischiava di essere archiviato come un caso risolto. Finendo nel dimenticatoio come altre realtà locali hanno già sperimentato. Ho urlato la mia rabbia nei network nazionali e ai vertici ministeriali. Anche quando mi sono sentito solo non ho mai ceduto a tentazioni disoneste. Perché sentivo forte la vostra rabbia di cui mi sono voluto fare interprete. Sarebbe stato troppo semplice continuare la politica che divide la disperazione. Rassicurandola con i vari ci penso io a te, non ti preoccupare. Sistemo tutto io. Di circostanza a cui ci hanno abituato e le stofanti della politica. Io queste formule non le ho mai sapute pronunciare. Ma in ogni atto che ho firmato, in ogni progetto di sviluppo che ho presentato, in ogni tentativo di investimento esterno che ho caldeggiato, non c'è stato un secondo della mia vita in cui io non abbia pensato alle vostre preoccupazioni di mogli e alle vostre apprensioni di madri. Nelle ultime ore stiamo approfondendo la questione che riguarda l'impiego della mano d'opera nei cantieri avviata da Enimed. Il 12 dicembre si terrà a Caltanissetta un tavolo prefettizio, perché quel tavolo spetta soltanto a chi è inserito nella lista di disponibilità. Ma questo non è il nostro unico impegno. Abbiamo tracciato opportunità occupazionali a medio e lungo termine, per il territorio, perché non vogliamo che i nostri cittadini vivano di elemosine. Io non so se la bioraffineria, i fondi di compensazione, il patto per la Sicilia, i finanziamenti europei, l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, saranno sufficienti a segnare la svolta economica di questa città. Sicuramente non è un cammino facile, ma solo il passo deciso di una città che non retrocede può sostenere. Di certo non abbiamo lasciato nulla di intentato per il futuro delle vostre famiglie, che più di tutte meritano rispetto per il lavoro e la dignità che le sono state scippate dall'oggi al domani. Continuiamo a seguire ogni passaggio di queste ambiziose linee di sviluppo economico con grande fiducia. Solo forti di questi sentimenti potremo cogliere il senso vero di ogni augurio che ci scambieremo alle soglie di un anno che attendiamo con l'ottimismo di chi, dopo una caduta, sa rialzarsi più forte. E sulla vicenda abbiamo raccolto anche la testimonianza di Luciana Carfì del coordinamento donne. La Carfì sostiene che saranno avviate al più presto delle trattative importanti con l'amministrazione comunale ed anche con le associazioni di volontariato presenti a Gela. Fare rete per costruire un nuovo futuro. Voi avete avviato numerosi incontri. Adesso promuovete anche un laboratorio, un laboratorio di idee. Sì, praticamente mettere in campo un progetto condiviso per fare ripartire questo territorio. Un progetto che sia elaborato dalle cittadine e dei cittadini di questo territorio dove incontrando associazioni, parrocchie, scuole, comitati di quartiere, insomma abbiamo organizzazioni. Da tutti è venuta fuori l'idea che questa città sta morendo ma dall'altra anche rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti per dare una prospettiva soprattutto ai nostri figli. Sostanzialmente lei dice che bisogna fare rete per uscire da questa situazione. Sì, perché molti giocano sulle divisioni di questo territorio. Noi ci siamo resi conto incontrando a livello nazionale e varie istituzioni incontrando anche a livello regionale puntano molto su questa nostra incapacità di fare rete. Bene, noi invece pensiamo che i cittadini e le cittadine abbiano tutto il diritto e soprattutto la voglia di fare qualcosa per il proprio territorio. Questa è una città ricca di energie, di risorse, di movimenti, associazioni, parrocchie, eccetera, molto attive e quindi è da lì che noi vogliamo partire, dalle persone in carne e ossa utilizzando degli strumenti chiari che ci aiutano a definire un progetto che faccia ripartire questo territorio. In un'area molto più diretta, pragmatica, facendo rete si trova il lavoro? Facendo rete non si trova il lavoro ma si pongono, è chiaro che noi guardiamo all'immediato, al medio e a lungo termine. Questa città va ripensata, la gente non ha più lavoro, molti facevano fronte sullo stabilimento, su Leni, che ha ridimensionato. È una partita che andrebbe poi giudicata perché siamo arrivati a questo punto e tutto il resto. Però in questo territorio stanno arrivando tantissime risorse. Ci sono tantissime opportunità che possono portare allo sviluppo di attività lavorative. Ci sono tanti soldi che devono essere spesi per le bonifiche e queste bonifiche vanno ancora progettate e attuate. Lì potrebbero trovare lavoro tantissime persone ma andrebbero attivate anche delle altre funzioni che sono la formazione di quegli operai che hanno perso il lavoro e che potrebbero andare a lavorare dentro quei cantieri. Ci sono altri cantieri che potrebbero partire ma per mancanza di autorizzazioni non partono. Allora noi dobbiamo fare fronte comune e come si dice dalle nostre parti qui non c'è più tempo per babbiare. Cioè qui nessuno può giocare sul futuro di questo territorio. E quindi dobbiamo essere noi cittadini a rimboccarci le maniche e a darci aiuto perché nessuno ci viene a salvare. Ce ne siamo resi conto. E nella rete coinvolgerete anche l'amministrazione comunale? Con l'amministrazione comunale noi avremo un dialogo diretto perché è chiaro che noi quello che elaboreremo lo porteremo sul tavolo delle istituzioni, delle varie istituzioni e loro saranno anche più forti nella richiesta di quello che vuole questa città perché non sarà il tizio o il caio ad averlo elaborato in una stanza con due o tre soggetti ma sarà la città che insieme deciderà quale futuro dare a questo territorio. E' attivo in città lo sportello medico per i più bisognosi è aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa porta la firma del Movimento Rosa per la rinascita di Gela. Collaborano ginecologi, rianimatori, anestesisti, pediatri, neurologi ed odontoiatri. Per informazioni rivolgersi al 346-9349-271 oppure presso la sede di via Tucidide al numero 19. Domani alle 10 in occasione del sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola con una celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Merina Monsignor Rosario Gisana verrà riaperta al culto la chiesa di San Francesco di Paola sul Corso Vittorio Emanuele, Piazza Sant'Agostino e sabato 10 dicembre alle 18 presso la parrocchia San Giovanni Evangelista di Gela si terrà la celebrazione eucaristica in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Loreto. Saranno presenti il personale dell'Aeronautica Militare di Stanza Gela, personale volontario dell'Unitalsi e le associazioni di volontariato. Domani 8 dicembre Gela celebra l'Immacolata Concezione e secondo gli antichi riti prescritti dai padri la comunità cittadina tutta rinnovando la propria singolare unità si ritrova attorno al suo pastore il Vescovo di Piazza Merina Monsignor Rosario Gisana per celebrare la Santa Madre di Dio nella chiesa San Francesco d'Assisi in piazza Municipio dove ripetendo i gesti di una tavica tradizione il sindaco, le autorità civili e militari rinnovano il voto di fedeltà Memori dello scampato terremoto del 1693. Di mattina la messa della cosiddetta Jibildon che noi traduciamo a Bejahmat una parola araba Jibildon alle 5 e mezza però inizierà alle ore 5 con la processione partendo da Piazza Padre Pio infiaccolata Don Raimondo celebrerà questa prima eucaristia alle 5 e mezza poi seguiranno le varie messe 7, 8, 9, 10 e infine il pontificale presieduto dal nostro Vescovo Don Rosario Gisana In occasione del solenne pontificale delle 11 è prevista una significativa iniziativa sarà infatti svelata una tela la del maestro gelese Lino Picone collocata sull'altare maggiore in ricordo del settantesimo anniversario di istituzione a parrocchia Per la prima volta verrà scoperto un dipinto una prima tela sono due sono due grandi opere quella di ieri si tratterà della disputatio Maria la disputa teologica tra la scuola francescana e la scuola domenicana proprio sull'immacolata concezione della Beata Vergine Maria è da vedere e poi meditare interpretare scrutare è un quadro di sintesi di tutta la storia francescana l'amore alla Madonna alla Vergine Immacolata quindi è la prima volta che Gela viene dipinta la nostra Immacolata Nel pomeriggio alle 16 si svolgerà la presentazione dei bambini alla Sacra Effigie dell'Immacolata e subito dopo il canto delle litanie annunzerà l'uscita del simulacro che verrà portato a spalla per le vie cittadine Il ritorno della Madonna in chiesa è quello previsto? Come sempre non si fa così tardi è previsto sempre verso le 10 9 e mezza 10 Poi di che c'erano i fuochi d'artificio? I fuochi d'artificio che la gente spontaneamente dona e questo è un segno anche di affetto Le associazioni nazionali dei carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia di Gela organizzano per giovedì 15 dicembre una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio che si trarà presso la Chiesa Sant'Agostino con inizio alle 18 la messa sarà ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza del Medina Monsignor Rosario Gisana alla presenza di autorità civili e militari provinciali e locali forze di polizia ed associazioni d'arma prevista anche la presenza del coro Perfetta Letizia San Giovanni Dalla 16 al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre nella suggestiva Piazza Santa Madre Teresa di Calcutta antistante la parrocchia Santa Maria di Bettalemma Gela si terrà il presepe vivente con i tradizionali personaggi gli usi e i costumi del periodo della natività gli orari sono i seguenti dalle 18 alle 23 l'apertura mattutina è dedicata alle scuole e torna il presepe vivente allestito dalla associazione smaffo preseduta da Ghetano Davide Rizzi appuntamento ai prossimi 25 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte un evento che porterà a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e a valorizzare luoghi sconosciuti del centro storico ma con il loro antico fascino all'ingresso del presepe via Casale Angolo Piazza Salandra al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte sarà devuto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia con il biglietto d'ingresso si avrà delitto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del territorio locale dei manifesti per invitare la cittadinanza a vaccinarsi aderendo così alla campagna sanitaria del 2016 2017 sostenuta dal Ministero della Salute su tali manifesti sono presenti componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Caltanissetta l'Ordine di Caltanissetta infatti promuove una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione vaccinale attraverso uno slogan non lasciarti influenzare vaccinati il messaggio dell'ordine provinciale parte da quello che è stato l'ordine nazionale la federazione nazionale degli ordini medici l'8 luglio abbiamo firmato tutti e 106 presidenti nazionali un documento pro vaccinazioni tutto ciò per contrastare quello che è un impatto anche mediatico da parte di gente che non ha nessuna preparazione scientifica e che millanta problemi nelle vaccinazioni cioè conseguenze che in effetti o effetti collaterali che non ci sono assolutamente o meglio sono proprio risicati rispetto a quello che è il vantaggio invece della vaccinazione il vantaggio della vaccinazione è quello di preservare siamo arrivati con questa popolazione anche a 90 anni a 100 anni proprio perché ci sono state le vaccinazioni che hanno debellato malattie che negli anni passati in maniera epidemiologica erano molto importanti e che addirittura portavano ad epidemie e a morti con distruzione di intere comunità questo in questo momento è il periodo giusto per vaccinarsi contro l'influenza ma le vaccinazioni soprattutto nei bambini vanno fatte durante tutto l'anno secondo quelli che sono i calendari che i pediatri di base i medici di medicina generale che ringrazio ufficialmente proprio per la campagna di prevenzione che stanno facendo consiglieranno ai genitori il comitato femminile della pubblica assistenza Procivis protezione civile di Gela in occasione delle prossime festività natalizie organizza una raccolta di generi alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti la raccolta di cibi non deperibili di volta a quanti vorranno aderire all'iniziativa avviene verso la sede della Procivis in via Ossidiana 23 fino al 22 dicembre prossimo dalle 15.30 alle 20.30 la distribuzione alimentare avverrà il 23 dicembre subito dopo il consueto progetto natalizio dei volontari della pubblica assistenza previsto per le 19 la libreria Mondadori di Gela presenta il libro di Carlo Ruta Federico II e il suo tempo l'evento si svolgerà venerdì 9 dicembre alle 17.30 presso la biblioteca comunale di Gela in via Butera dialogherà con l'autore Salvina Fiorilla Fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente cosa conferire? plastica piatti e bicchieri monouso in plastica bottiglie di acqua e bibite flaconi taniche dispenser e tubetti vuoti prodotti per detergenti detersivi shampoo e dentifricio prodotti per l'igiene della persona e della casa vaschette contenitori buste e sacchetti per alimenti imballaggi in polistirolo reggette e stringipacchi blister reti e cassette per frutta e verdura contenitori con sigle PET PVC PPPPS cosa conferire metalli lattine per bevande scatole e lattine in banda stagnata contenitori in metallo pelati tonno mais cibo per animali contenitori di prodotti per igiene personale tappi coperchi e stampi per dolci in metallo carta in alluminio di uso domestico pulita contenitori in alluminio per alimenti puliti bombolette spray vuote non pericolose coperchi in alluminio degli yogurt lattine con il simbolo AL come conferire il multimateriale gli imballaggi in plastica assieme agli imballaggi in metallo alluminio banda stagnata e metalli vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto rieccoci in seconda parte del telegiornale è prevista per domenica 11 dicembre al teatro l'antidoto di macchitella a Gela la 38esima giornata del donatore promossa dalla sezione locale dell'adas presieduta da Enzo Emanuello appuntamento alle 16.30 con la premiazione dei donatori benemeriti e sorteggio a premi la serata sarà chiusa dal comico palermitano Antonio Pandolfo con il suo spettacolo Pandemonio una consulta la sua istituzionalizzazione un'edizione estiva un concorso di artisti sono queste alcune delle proposte avanzate per il palio della Lemanna dalla commissione consigliare alla cultura e dall'assessore Francesco Salimitro per promuovere una manifestazione che vuole essere di tutta la città di tutte le associazioni e soprattutto che sia in grado di assicurare continuità efficacia e competenza ad una iniziativa che ha già avuto altre tradizioni prima di quella che si è tenuta lo scorso settembre il presidente della commissione Luigi Di Dio ha annunciato l'istituzionalizzazione dell'evento storico impegnandosi sin da ora assieme agli altri componenti Salvatore Sammito Sara Bonura Ciccio Napolitano e Angelo Amato a cercare l'adesione della città così da rendere il palio uno degli eventi più importanti di Gela l'assessore Sanitro ha proposto l'istituzione di una forma organizzativa in grado di gestire tutte le fasi dell'evento che rispetti gli aspetti storici come i costumi dell'epoca trovando e attuando le opportune forme di controllo e coordinamento organizzando un prepalio estivo in maniera che possa essere goduto e conosciuto dai turisti e dai concittadini emigrati presenti a Gela sino al mese di agosto un prevento che faccia conoscere il palio di quell'anno e funga da anticamera alla bellezza del vero e proprio palio dell'Alemanna contestualmente si promuoverà un concorso annuale tra artisti per il palio di quell'anno che costituirà il premio al quartiere vincitore il componente della commissione Sarabonura ha proposto un concorso per i migliori costumi della dama e delle cavaliere ed il coinvolgimento del gruppo artistico dei madonnari l'incontro con i promotori attuali e passati del palio dell'Alemanna è stato un momento importante per delineare al meglio le future edizioni della manifestazione ha commentato il presidente della commissione alla cultura Luigi Di Dio apprendiamo con soddisfazione che la macchina organizzativa è già in moto con la riunione preliminare atta a costituire una consulta cittadina per il palio dell'Alemanna si darà giovedì 15 dicembre alle 17 nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela diretto da Gioacchino Pelitteri la presentazione del libro Ludibrio Sibi Aber di Federico Efer l'iniziativa è dell'Uni3 presieduta da Angela Scaglione introdurrà i lavori Liborio Mingoya docente responsabile culturale Uni3 si avvicina sempre più il Natale e così si cominciano a intravedere i primi addobbi natalizi le strade i negozi e le case si tingono dei colori del Natale e si percepisce nell'aria un'atmosfera di festa c'è chi inizia già a pensare ai regali per amici e parenti e chi invece aspetta gli ultimi giorni per ultimare gli acquisti un periodo questo in cui dunque ci si dovrebbe preparare a spendere un po' di più eppure anche quest'anno la difficile situazione economica influirà sulle spese degli italiani e anche dei nisseni diciamo che viene registrata dalla fede al consumatore a livello nazionale una lievissima crescita però nel nostro territorio si può dire che non si registra tale in quanto sappiamo la crisi che morde e la disoccupazione che dilaga e comunque quei pochi soldi diciamo così saranno destinati per i beni di prima necessità anche i regali saranno regali utili abbigliamento calzature diciamo che ci si può accontentare di quello che magari generalmente può essere qualcosa di abituale e così invece quest'anno anche purtroppo quest'anno non è così la tredicesima per l'85% sarà sicuramente spesa per pagare mutui date e bollette varie e assicurazione di macchine purtroppo il trend è questo quello che rimane della tredicesima verrà speso sicuramente in beni di prima necessità pur facendo dei regali in abbigliamento calzature magari libri ma quello dove l'italiano non si risparmia soprattutto anche noi nisseni è quello che riguarda il genere alimentare il genere sicuramente non soffrirà di questa crisi una raccomandazione bisogna fare ai nostri cittadini e soprattutto ai consumatori sappiamo che siamo tutti a caccia di occasioni per poter risparmiare e molti di noi ci rivolgiamo anche ai siti online stiamo attenti alle truffe ed eventualmente la fede del consumatore è a vostra disposizione per difendere il diritto del cittadino ed è soprattutto del consumatore ritorna l'iniziativa Natale a quattro zampe appuntamento domenica 11 dicembre alla villa comunale Garibaldi di Gela per informazioni contattare il 392 67 34 0 4 1 l'associazione sportiva direttantistica bike team Gela spegne tre candeline e tessera anche le quote rosa ci sono infatti anche due donne e tre nuovi associati del team capitanato dal presidente Giuseppe Abela si tratta di Iris Palmeri e Mirella Policino che gareggeranno in Sicilia nell'ambito del nuovo anno agonistico nella squadra l'unica in città della federazione ciclistica italiana per l'anno 2017 inoltre anche tre giovanissime new entry Simone Rezzi Emanuele Occhipinti e Vincenzo Scerra parteciperanno ai percorsi assieme a Francesco Di Giacomo e Peppe Caffà con i ruoli rispettivamente di vicepresidente e segretario della società ciclistica si darà domani in piazza Umberto I la manifestazione Corri con Papa Natale l'appuntamento è previsto per le 9.30 l'iniziativa è organizzata dalla associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veretti in collaborazione con il comitato gelese della Unicef la Croce Rossa la protezione civile religioso corso e col patrocinio del comune l'evento rientra nel progetto di educazione alla salute sport ed ambiente che ha finalità di promuovere l'attività motoria in età evolutiva all'aperto la pagina dello spettacolo in conclusione del TG oggi alle 21.30 all'antidoto di Macchidella Gela è previsto lo spettacolo fiato di madre di Sergio Vespertino il biglietto a un costo di 8 euro e al teatro comunale Eschilò sabato 10 dicembre alle 21.15 e domenica 11 alle 17.15 sarà portata in scena la commedia Annata Ricca Massaru Contento di Nino Martoglio protagonista sarà l'attore Tuccio Musumeci il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.